Vincenzo Irolo, si preparano per la categoria 24 chilogrammi, Redavid Matta di Gravalle Lucia. Si inizia Smeralda. Vincenzo Irolo, si preparano per la categoria 28 chilogrammi, Si inizia Smeralda. Vincenzo Irolo, si preparano per la categoria 24 chilogrammi, Redavid Matta di Gravalle Lucia. Vincenzo Irolo, si preparano per la categoria 24 chilogrammi, Redavid Matta di Gravalle Lucia.